Mi sono isolata proprio con questo gruppo qui, quindi sono sempre delle cazzate, sparano cazzate, 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 non è assolutamente vero, io mi sono presa, sì, ti sei presa? Non ho capito, ma perdonami, Roger, ho detto io mi sono presa 24 ore per capire anche che probabilmente dovevo avere una visione dello spirito dell'isola completamente diverso. Io sono arrivata qui pensando più al fattore umano e non al gioco, non al, come dire, a creare delle strategie tali da poter ferire anche delle persone, non mi appartiene. Penso che l'isola sì, sia un palcoscenico dove tutti devono mostrare una parte di se stessi. Bene, qui stanno interpretando dei ruoli, dalla cattiva alla stratega della situazione. Stefania, perché dici no? Perché continui da dietro a dire no, Stefania? Perché continui da dietro a dire no? Perché non è vero, perché lì già si isola tutti i giorni. Non è assolutamente vero! Ma come fai a dire una cosa del genere? Ma voi, sono stata la prima ad avvicinarmi a te, quando sei appena arrivata, ti ho fatto vedere tutto, sono stata sempre con te. Sono stata l'unica a difenderti dopo 24 ore. Ragazzi, però se parlate tutti insieme non si capisce. Grazie a tutti.